Derby per larghi tratti tutt'altro che spettacolare dalle rare occasioni da rete al Carotti, ma la spunta la Iesina premiata alla mezz'ora della ripresa dal sigillo del classe 96 Pierandrei. Partita che a lungo vede Leoncelli provarci con poche idee però al momento di avvicinarsi all'area di rigore di una re canatese che si difende con ordine ma stenta a trovare lo spazio per agire di rimessa. Nell'undici Leoncello Bacci recupera in extremis Carnevali e punta su un 4-3-3 in cui davanti Giazzetta e Rossini accompagnano Pierandrei. Sperimenta anche l'area canatese con Pierantoni 4-4-2 in cui le novità sono Di Marino e Bartomeoli dietro e Piraccini in mediana, Galli e Palmieri le punte. Squadre che si assestano nei rispettivi schieramenti, davvero rare le emozioni nell'arco dei primi 45 minuti. Per annotare qualcosa occorre ricorrere all'undicesimo ad un tiraccio da fuori area di Berardi per la Iesina con palla abbondantemente al lato. Stesso discorso per il tentativo al 41esimo della re canatese con Galli che ci prova da fuori assolutamente senza impensierire Tavoni che controlla a terra. Si va al riposo con tanta noia per lo sparuto pubblico. Al rientro invece subito una fiammata da parte della Iesina. Dopo due minuti calcio di punizione dal limite dell'area. Ottima l'esecuzione di Rossini, spettacolare il volo di verdicchio, annegare il gol e mettere in calcio d'angolo. Gara che torna a bloccarsi. La re canatese ci riprova con Galli al 54esimo. Ancora un tiro dalla lunga che non inquadra lo specchio. Al 55esimo gli ospiti protestano quando Palmieri viene fermato in posizione di fuorigioco. Bacci prova con i cambi. Dentro un baglie per l'ammonito Sebastianelli. Per la re canatese fuori Piracini e dentro Jacoponi. Il copione resta lo stesso con i leoncelli chiamati a fare la gara ma che non riescono a schiodare il risultato. La re canatese controlla ordinata e alla 73esimo ci prova di rimessa. Quando il nuovo entrato Noman si accentra e va al tiro dal limite. Palla al lato. Fase critica ma si accende la luce per la Iesina al 75esimo. Cross messo da destra da Marco Strappini. In area il controllo è Sumbaglie ma Pierandrei all'altezza del secondo palo è più libero di colpire. Colpo di testa e palla nel sacco per il vantaggio e la rete decisiva. Gara che si apre un po' una volta spezzato l'equilibrio. Le uncelli che provano di rimessa. Nicola Cardinali tenta il contropiede solitario. Tirando una prima volta su Verdicchio e poi concludendo alto sulla respinta all'83esimo. Ancora Nicola Cardinali tenta la via del golo su punizione all'85esimo. Palla alta. Chiusura con la Iesina che reclama sull'ultimissima azione quando al quarto minuto di recupero Mbaie va giù in area Recanatese ma l'arbitro fa proseguire. Finisce così Iesina che batte Recanatese per 1-0 e torna a vincere dopo due stop consecutivi. Recanatese che interrompe una buona sua serie in trasferta.